dice michael bene bene che vuoi dire michael che succede facciate una mano michael facciate una mano a vedere come vede tutto tutto qua mamma mia che macella che macella che ha fatto michael lino a tu hai lino mi piace mi piace e qua mi chiamo a tutti i tuoi si sta non era vicino eh non è pure il televisore vicino eh ah no chi chiudo il tasto? chi chiudono il tasto? è meglio eh aspetta 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 si chiudono meglio nega eh ma è meglio non è troppo ora non è via più costa almeno la polvere no poca 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 come stanno con sante 10 no come stanno sante 10 no usate eh può costano un milione non è giudice non è gesù non è giudice a metà Questa è la carta nuova, questa è la carta nuova, costruisce un minore di 6. E' 8 cento. E tu mamma, questo lo metti da qua. Ah, l'interno stanno pagando qua. Fra, la metti? La metti? La metti. Fra, un libro qua e un libro qua. Un libro, come un libro. Allora, fa a metterlo fuori di cartoni, lo ha a metterlo.